dottor alberto pollo responsabile del servizio economato del comune di biella che cosa smarriscono i biellesi e che cosa trovate in giro per la città beh penso che i biellesi smarriscono di tutto di più partiamo sicuramente da documenti portafogli chiavi biciclette i ragazzi delle scuole smarriscano cartelle zaini borse sportive di tutto ombrelli di tutto come si deve fare per poter rientrare in possesso di questi oggetti si presenta lo sportello dell'ufficio economato se l'oggetto è stato rubato con denuncia di furto eventualmente di sparrimento se invece non c'è nessuna denuncia fornendoci alcuni dettagli che ci facciano capire che l'oggetto è di proprietà ecco perché immagino ci sia sugli oggetti di valore qualcuno che si possa presentare facendo il furbo insomma ma sbagliando in buona fede sbagliando magari si crede sempre quando uno perde soprattutto magari il telefono piuttosto che i tablet si viene a chiedere ovviamente se non ci forniscono i dettagli dello strumento noi non possiamo darglielo perché non appartiene a loro ecco nel comunicato che avete diffuso nei giorni scorsi c'era scritto anche denaro contante quindi sono persone che lo perdono ma persone virtuose che lo recuperano e ve lo portano in questo caso come ci si comporta anche in questo caso ma se è solo denaro noi lo teniamo in cassaforte fintanto che nessuno viene a reclamarlo anche in questo caso ci deve dare l'esatta somma e il luogo dove presumibilmente è stato smarrito capita più spesso che oltre al denaro ci sia anche un documento perché è tutto inserito in un portafoglio quindi col documento ovviamente è tutto più facile perché risaliamo il proprietario dal nome e cognome. In tanti anni di esperienza qual è l'oggetto più curioso che avete ritrovato? beh di oggetti curiosi ne abbiamo visti di ogni tipo abbiamo visto fuori c'era un costume da bagno che è molto simpatico abbiamo ritrovato dei cartelli stradali probabilmente persi da una ditta o abbandonati da una ditta biciclette di ogni tipo un paio di sci un paio di sci un paio di sci ringraziamo il dottore alberto pollo parola bua di aria di biella